www.morizopoli.it in questo periodo si parla tutti di criptovalute di bitcoin eccetera ma vicino a pasqua voglio parlarvi del cacao il cacao si materie prime sulla piazza di new york quindi il cacao negli ultimi 12 mesi è aumentato dal 200 per cento e sul venerdì scorso il discorso sulle 8 mila dollari la tonnellata la quotazione del cacao sulla piazza di new york un po per le speculazioni che sono state fatte da per quanto riguarda l'inchiesta fatta dal financial times quindi porto un articolo su questa bolla sul mercato del cacao anche perché c'è un virus che colpisce le piantagioni di cacao in ghana e in corso d'avorio quindi la produzione è diminuita quindi la bolla del cacao aumentato del 200 per cento negli ultimi 12 mesi una buona natura e buona pasqua